allora eccoci qua qua siamo al santuario della madonna dell'arco il mio giro continua allora ho fatto già Santa Anastasia insomma venendo da Pomigliano Napoli Pomigliano ho fatto un bel giro e niente ora proseguo credo per bolla cercola credo che lì non so tanto pratico però qua è bellissimo vedete lunedì vuoto puoi dire pandemia ormai ci ha ridotto ad andare avanti soltanto in bici non abbiamo altre situazioni da poter muovere un po' la testa io faccio la panoramica la si vede entra vede un po il Vesuvio sono andato anche vicino diciamo ai piedi del Vesuvio l'ho fatto già un'altra volta quindi non sono salito ho zitto in black bike come sempre e niente saluti da madonna dell'arco ragazzi un bacio a dopo proseguo il mio scarico il mio scarico di lunedì dove comunque dopo la tappa di ieri devo continuare altrimenti a pedalare per mettermi ancora in forma e non ci arrendiamo mai siamo forti pandemia non ti temo vinceremo noi prima o poi ce la faremo bacio a tutti